Le novità per quest'anno sono innanzitutto la nuova grandama che verrà impersonata da Benedetta Felci e un'altra importante novità è l'introduzione di un concorso di fotografia, il Palio in un click, che mira proprio a diffondere la conoscenza della nostra manifestazione e quindi invitiamo tutti coloro che verranno a vedere il Palio a lasciare una fotografia. Ovviamente ci sarà anche un premio per il vincitore, una premiazione per i finalisti. Gli appuntamenti sono 14 agosto a Tortoreto Lido, serata inaugurale del Palio del Barone e poi 16 agosto nel centro storico di Tortoreto Alto con il Palio vero e proprio, quindi la sfida tra i rioni Terravecchia e Terranova. Con il commissario prefettizio Francesco Terricone questo per lei è il primo Palio del Barone? Penso che sia anche l'ultimo perché ovviamente la prossima estate tornerà un'amministrazione comunale perché ci saranno le elezioni nel periodo di primavera, quindi la vivo da protagonista, se non altro da protagonista però come dico io in rappresentanza del Comune che ha dato il padrocino alla manifestazione con questa rievocazione storica che devo dire ogni anno ha sempre maggiore successo. Il Palio del Barone bisogna averlo dentro, bisogna avere la passione per fare questa manifestazione, per realizzarla, per costruirla. Se non la sia dentro non si possono fare certe cose. Il Palio del Barone noi lo sapevamo già perché lo seguiamo da tanti anni ma un po' se ne sono accorti da tutta Italia è tra le 30 manifestazioni storiche più belle della nostra penisola. Questo ci inorgoglisce e ci fa notevolmente piacere, significa che stiamo lavorando bene, che abbiamo lavorato bene e che lavoreremo, continueremo a farlo anche in futuro. Siamo stati selezionati dalla Codacons come una delle migliori manifestazioni d'Italia e quindi diciamo che adesso toccherà agli altri votarci per essere la più bella d'Italia.